Allora, lo sto coprendo la targa con la mano, questo è un furgone isotermico che ho donato tramite la mia fondazione alla Croce Rossa Italiana, che domani partirà per l'Ucraina ed è tutto pronto e ovviamente è isotermico perché l'inzio l'ina deve stare a temperature basse per poter arrivare a destinazione e domani partiranno. Credo, partirà lui, tu? Si sparerà mille chilometri, mille buongiorno, vi faccio vedere il mio prodotto preferito, Light Bomber, di cui non posso fare a meno, che questo illuminante stick che fa un effetto meraviglioso sulla pelle. Come lip gloss, oggi uso Bossy Babe, che è leggermente più chiaro di Ace Weedy, per un effetto più naturale. Il risultato. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.